Inchinatevi clienti di fronte al vostro nuovo re. Gaina contro Sylvanas! Vistoria per i reietti! L'hai voluto tu! Vedo che hai portato ospiti. Salve! Errore! Secchio caldo! Ti riporteremo indietro in spalla a qualcuno! Provinen, Cristo da parte a noi! Perfetto! 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 Errore, secchio caldo. Erore, 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 secchio caldo. Non posso fare. Erore, secchio caldo. 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 Grazie per la visione